Ciao bestie, un disegno semplice per tutti, diamo dignità a un povero albero, che di dignità non ne ha, come me, qua in 20 secondi avete già fatto Andiamo a riempire con caldi colori autunnali, siamo a novembre e diamo l'impressione che sei pieno di foglie, che poi esserci ci sono Però basta non veniamo scemi a farne una per una, ahimè oggi splende il sole, quindi per forza di cose due ombre ce le mettiamo Mi raccomando quello sotto deve essere asciutto, se no è un casino, l'albero è così emozionato che perde anche le foglie Andiamo a fare persino il tronco, che non vede l'ora di prendersi tre mesi di vento gelido e diamo ancora un pochino di ulteriore contrasto Qui non ero marcio, mi stava solo scappando il telefono e finiamo l'illustrazione con un po' di china nei contorni, basta così Tutti i materiali sono le link in biografia e dignità agli alberi